Superare la concezione della canapa come stupefacente e allo stesso tempo ritornare al passato. È l'invito di Matteo Gracis, autore del libro Canapa, una storia incredibile, che al rilancio della produzione e della trasformazione di questo vegetale ha dedicato un tour di presentazioni in tutta Italia. Domani sarò ospite dello studio Shanti di Belluno. Troppo spesso, purtroppo, questa pianta è vittima di pregiudizi, di ignoranza e di disinformazione. Quindi io cerco di fare un po' di chiarezza, cerco di raccontare che la canapa, la cannabis, la marijuana, l'erba, la ganja è sempre la stessa pianta, semplicemente parliamo di utilizzi diversi. La canapa fa parte della storia, della cultura italiana, è entrata addirittura nella toponomia, dando dei nomi a delle località. Qui in provincia di Belluno abbiamo il caso, ad esempio, di Canevoi, frazione di Ponte nelle Alpi. Ecco, Canevoi deriva proprio dalla canapa, il nome dalla canapa, perché a Canevoi, evidentemente, la canapa rappresentava un mercato, un'industria, un tipo di coltivazione importante ai tempi. Faccio anche l'esempio curioso che è quello di un oggetto che noi tutti abbiamo ancora nelle nostre abitazioni e che il nome arriva proprio da canapa e che è il canovaccio. Dalla canapa si possono ricavare produzioni di qualità. Io in questo momento sono vestito dalla testa ai piedi in canapa. La giacca che indosso è in tessuto di canapa elasticizzata al 92% e quindi al 92% è compostabile, è ecosostenibile. Oggi la canapa è bioplastica, è bioedilizia, è cibo, è cosmetica, è energia verde pulita, è carta. In passato, ancora prima che si iniziasse a parlare di ecosostenibilità, la canapa rappresentava una soluzione non inquinante. Un esempio curioso è quello delle reti da pesca. Reti da pesca che fino alla fine dell'Ottocento venivano fatte proprio in canapa. Quando si finiva di utilizzarle venivano abbandonate sul fondo dell'oceano diventando nel giro di pochi mesi cibo per i pesci.